è ufficiale da martedì le marche tornano in zona arancione controlli intensificati nei giorni di pasqua 250 agenti coinvolti la stagione estiva inizia prima stabilimenti aperti dal primo maggio conf commercio presenta la 38esima edizione dei weekend gastronomici di primavera una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura l'annuncio è arrivato questo pomeriggio del ritorno dal prossimo martedì in zona arancione per la regione marche una comunicazione attesa e per la quale fino a qualche ora fa non c'era però certezza lo sentiamo nel primo servizio insieme all'intervista realizzata al direttore dell'osservatorio epidemiologico regionale il dottor marco pompili che ci ha spiegato l'andamento dei contagi della curva epidemiologica delle marche in questi ultimi giorni è arrivata nella giornata odierna l'ufficialità del ritorno delle marche in zona arancione a partire da martedì 6 aprile la regione in bilico tra la fascia di rischio intermedio e quella superiore fino all'annuncio giunto dalla cabina di regia nazionale si trovava in zona rossa ormai da diverse settimane da quando inizialmente le misure più restrittive erano state imposte alle singole province a distanza di qualche giorno l'una dall'altra da martedì quindi sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio comune di residenza fare visita ad amici e parenti nelle abitazioni private una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nella casa che potranno essere accompagnate da minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti e torneranno ad aprire alcune attività tra cui negozi al dettaglio i parrucchieri e gli estetisti il ritorno in zona arancione e l'incidenza regionale inferiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti si accompagnano alla fase di regressione della curva epidemica marchigiana come evidenzia il direttore dell'osservatorio epidemiologico regionale marco pompili la curva epidemica oramai da un paio di settimane in una fase di lenta regressione quindi sta flettendo nel tempo quindi è in un momento di pressione nell'ultima settimana ha registrato una riduzione del 21% complessiva e chiudiamo la settimana con un tasso di incidenza accumulativo di 233 su 100.000 quindi sotto il parametro e il cut off ministeriale di 250 su 100.000 quindi vi è un rischio ancora moderato la curva sta flettendo ancora l'incidenza è un'incidenza abbastanza rilevante anche se sotto i 250 ma è comunque un'incidenza di 233 su 100.000 che è comunque un'incidenza rilevante ormai è da due settimane che non siamo in fase di picco e abbiamo passato subito dopo una fase di plateau oggi ormai è una fase di regressione chiara che ci porta avere un'incidenza media attorno ai 500 casi in fase di picco avevamo un'incidenza media sopra gli 800 quindi è chiaro che ormai è una fase diversa di quella di circa due settimane fa è una fase in cui anche se lentamente si sta sottigliando e si sta avendo sempre un'incidenza più piccola più bassa dopodiché questo non vuol dire che se iniziano comportamenti non corretti è chiaro che l'incidenza salirà il tendenziale di oggi però è un tendenziale abbastanza chiaro e abbastanza solido che è un tendenziale di lenta regressione della curva epidemica tramite la campionatura random effettuata sui tamponi provenienti da tutto il territorio regionale è evidente ormai come la variante inglese sia quella predominante anche nelle marche quando ci arrivano dei campioni dal territorio facciamo una campionatura e su quei campioni analizziamo la presenza delle varianti chiaramente ormai la variante inglese è una variante predominante negli ultimi analisi era attorno all'88 per cento la presenza delle varianti inglese cosa vuol dire che su 64 campioni testati in 54 era presente la variante inglese in due la variante di new york in due la variante brasiliana quindi ormai il ceppo originario non c'è più o in piccola parte ed è predominante ormai la variante inglese parliamo ancora di coronavirus con i dati quotidiani che ci arrivano dal servizio sanità della regione con i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore che sono stati 5.720 3.019 nel percorso nuove diagnosi di cui 720 nello screening con percorso antigenico e 2.701 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 21,6 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 651 con 198 casi nella provincia di pesaro urbino 15 invece i decessi notificati ieri sera dal servizio sanità della regione e quasi la metà sette vittime erano residenti nella provincia pesarese in primo piano anche la cronaca perché nella mattinata di ieri è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso un 14enne pesarese che aveva ingerito della droga probabilmente una pasticca di ecstasi i genitori del ragazzo si sono accorti prontamente del malore e del forte stato confusionale accusato dal giovane e hanno quindi immediatamente contattato i sanitari del 118 il giovane non si trova in pericolo di vita e pare che la droga gli sia stata regalata da alcuni spacciatori e stiamo per entrare nel fine settimana di pasqua festività pasquali che anche quest'anno prevedono diverse restrizioni a partire dalla chiusura di diverse tipologie di attività fino alle limitazioni riguardanti gli spostamenti per verificare quindi il rispetto delle misure anti covid è stato previsto un ampliamento dei controlli da parte della polizia e delle forze dell'ordine con 250 agenti pronti a presidiare le zone più critiche della città e non solo saranno oltre 250 le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e delle polizie provinciali e municipali impegnati nelle giornate di sabato domenica e lunedì a controllare il rispetto delle misure anti covid in vigore per il weekend di pasqua il potenziamento dell'azione di controllo durante le festività pasquali già discusso durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato confermato ieri durante il tavolo di coordinamento tecnico operativo svoltosi in questura osservati speciali dove si concentrerà quindi maggiormente l'attenzione degli agenti saranno anche a pesaro le aree verdi i parchi ma anche la zona mare e quella del porto insieme ovviamente alle aree di maggior richiamo turistico dell'entroterra saranno intensificati inoltre con il coinvolgimento della polizia stradale e delle polizie locali i controlli sulle principali arterie stradali della provincia nessuna chiusura prevista in città dunque ma un'implementazione dei controlli dei vigili e delle forze dell'ordine per scongiurare in primis situazioni di assembramento verificando ad esempio che le passeggiate dei cittadini avvengano come previsto nei pressi della propria abitazione nel quartiere di residenza o nell'area verde più vicina anche il prefetto di pesaro urbino vittorio la polla ha ricordato l'importanza del rispetto delle prescrizioni in vigore nei tre giorni a cavallo delle festività pasquali sabato 3 domenica 4 e lunedì 5 aprile in cui è prevista la zona rossa a livello nazionale gli unici allentamenti previsti e rispetto alle giornate precedenti riguardano le visite nelle abitazioni private sarà consentito infatti una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra casa privata all'interno della stessa regione tra le ore 5 e le ore 22 ad un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi all'interno dell'abitazione di destinazione che potranno portare con sé figli minori di 14 anni o persone disabili non autosufficienti gli altri spostamenti sempre consentiti riguardano soltanto situazioni di necessità salute o che alla base prevedono motivazioni lavorative sempre consentito invece il rientro presso la propria residenza o domicilio a livello regionale sarà in vigore fino alla mezzanotte del 5 aprile l'ordinanza firmata dal governatore francesco acquaroli che vieta ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle marche di raggiungere le proprie abitazioni diverse da quella principale e quindi le cosiddette seconde case presenti sul territorio regionale nell'ultima settimana i controlli riguardanti gli spostamenti sul territorio pesarese sono stati 3642 con 89 sanzioni di cui 49 sollevate nella sola giornata di domenica 28 marzo e la stagione estiva nelle marche partirà dal primo maggio e quanto emerge dal vertice che si è tenuto ieri tra il governatore della regione francesco acquaroli e i rappresentanti del settore gli stabilimenti balneari secondo questo primo annuncio potranno quindi aprire con largo anticipo rispetto ad altre regioni come per esempio la vicina emilia romagna sempre durante l'incontro si è discusso anche delle prime misure di sicurezza confermate anche per questa stagione che sentiamo nella prossima intervista alla portavoce nazionale cna balneari sabina cardinali avremo una stagione un pochino più ampia come periodo che partirà appunto dal primo maggio quindi un pochino in maniera un pochino più anticipata e potrà potrarsi volendo fino al 3 ottobre 2021 quindi visto che abbiamo perso la pasqua in cui non abbiamo potuto in cui non potremo lavorare però avremo un periodo comunque abbastanza congruo per riprendere sono abbiamo parlato dei protocolli di sicurezza perché naturalmente tutte le attività in spiaggia negli stabilimenti balneari verranno fatti con tutti i protocolli di sicurezza che già abbiamo affrontato anche l'anno scorso quindi abbiamo avuto una conferma di un corretto diciamo comportamento degli operatori balneari proprio per garantire la sicurezza e infatti anche l'anno scorso non abbiamo avuto casi nei vari stabilimenti e questo è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta ecco quali sono quindi le misure di sicurezza e le linee guida da seguire che sono state confermate allora tutte quelle che fanno comunque riferimento al distanziamento sociale quindi l'uso dei dispositivi mascherina sicuramente sulle aree comuni però anche una distanza fra ombrelloni minima di 10 metri e 50 così come è stato appunto fatto nel 2020 l'uso delle attrezzature fatto da congiunti da persone da che vivono insieme e e quindi una una cautela in tutto questo vi è stato dato molto spazio anche al discorso della ristorazione in spiaggia quindi di spazi di potere di delivery di poter anche ordinare i passi da sotto l'ombrellone e poterli anche consumare sotto gli ombrelloni quello di ieri è stato primo incontro proprio quello per capire le linee più diciamo generali della situazione però ci sono tante cose ancora da appurare quindi rimane comunque aperto ci saranno altri incontri di confronto dove poter appurare sia il discorso degli sport dei beach e delle aree destinate a questo perché sappiamo che ancora gli sport sono possibili solamente quelli a livello agonistico quindi a livello amatoriale in spiaggia non so le beach volley il beach tennis e questi sport come poter fare se poterlo fare e dipende molto dalla curva epidemica eventualmente anche un nuovo uso di quegli spazi in quale maniera sostanziamento di queste misure del conferma delle misure valide anche per l'anno scorso quindi dal via la possibilità ai bagnini di iniziare anche con i lavori per l'allestimento della preparazione delle spiagge certo l'anno scorso fino alla fine di aprile non potevamo intervenire sulle spiagge per le manutenzioni quest'anno abbiamo già iniziato sono già settimane che lavoriamo e in modo di poter arrivare più preparati l'anno scorso abbiamo dovuto correre certe manutenzioni abbiamo dovuto anche lasciarle perdere perché abbiamo dato la precedenza le cose più urgenti quest'anno invece abbiamo una tempistica più ragionevole più umana per poter lavorare e per poter offrire in sicurezza tutti i servizi in maniera più consona quest'anno più che altro sarà ancora il turismo di prossimità che la farà da padrone quindi il turismo interno il turismo italiano e noi ci adopereremo in tutto perché questo avvenga il prima possibile e si è conclusa la procedura per la gestione del complesso sportivo adriano facchini di via togliati con l'affidamento alla società casa vl la procedura è frutto di un accordo sottoscritto lo scorso gennaio dal comune di pesaro e dalla federazione italiana pentatron moderno in collaborazione con il coni è stato pubblicato il bando che concede contributi regionali per sostenere la ripresa post covid delle attività sportive nelle piscine agonistiche a disposizione ci sono 250 mila euro che potranno essere richiesti da enti pubblici organizzazioni sportive affiliate al coni e al comitato paralimpico da privati che gestiscono impianti pubblici con vasche di almeno 25 metri le richieste andranno presentate alla regione marche entro le ore 12 del prossimo 30 aprile esclusivamente tramite il sistema telematico procedi marche i progetti del cuore mettono a disposizione della città di pesaro un nuovo mezzo completamente attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà delle famiglie e delle persone con disabilità del territorio ad annunciarlo è l'assessore all'operatività enzo belloni che nei giorni scorsi ha incontrato la realtà guidata da analisa minetti e il vice presidente del lions club di gabice mare michelangelo castellucci accompagnato dal consigliere enrico cancellotti ha consegnato al sindaco domenico pascuzzi buoni spesa per l'acquisto di genere alimentari da consegnare a famiglie in difficoltà come ogni anno in questo periodo proprio vicino alla pasqua i 40 buoni spesa hanno un valore di 30 euro ciascuno ed è stata presentata questa mattina nella sede pesarese della conf commercio la 38esima edizione dei weekend gastronomici di primavera uno dei progetti di punta promosso appunto dalla conf commercio di pesaro e che quest'anno visto il periodo di crisi vissuto dal settore della ristorazione acquista ancor più valore partirà con l'asporto e con la consegna a domicilio il prossimo 10 aprile nelle 31 località interessate della provincia di pesaro urbino la 38esima edizione dei weekend gastronomici di primavera il lancio di uno dei progetti più importanti della conf commercio pesaro urbino che tra i principali partner per l'iniziativa vede eracom e riviera banca avviene in un momento delicato e di difficoltà per il settore della ristorazione locale e non solo obiettivo del progetto è infatti quello di supportare i ristoratori nel periodo a cavallo della ripartenza promuovendo inoltre il territorio in cui questi si inseriscono per fare ciò all'interno della guida sono stati inseriti e valorizzati anche i 13 comuni con le new entry di tavullia e sasso corvara auditore che fanno parte dell'itinerario della bellezza altra iniziativa chiave della conf commercio pesarese sapevamo che era il momento molto difficile anche con le chiusure dei ristoranti ma abbiamo ritenuto di dover comunque fare l'iniziativa il 38esima edizione dei weekend di primavera e l'abbiamo fatto e deciso per tre motivazioni la prima come sfida dal governo il governo ha deciso dei provvedimenti di chiusura che noi non condividiamo contestiamo perché il settore sicuro nel settore che non merita questo comportamento da parte del governo auspicavamo una riapertura rapida dei ristoranti questo non è avvenuto e quindi noi abbiamo voluto farlo per dimostrare che noi ci siamo nei prime domeniche ovviamente sarà necessariamente con l'asporto e i cold delivery poi quando ci sarà la possibilità di riaprire i ristoranti ovviamente invitiamo questo è il secondo motivo invitiamo i consumatori a prenotare nei ristoranti per dare una mano a questo comparto il terzo motivo è che non potevamo lasciare da soli i ristoranti nel momento della ripartenza perché comunque la ripartenza ci sarà e sarà proprio a cavallo di questa iniziativa dei weekend gastronomici e quindi appoggiare attraverso una grande comunicazione una campagna promozionale la ripartenza e la presenza nei ristoranti di tanti consumatori che apprezzeranno il menu che i 46 ristoranti partecipanti hanno proposto con dei prezzi assolutamente promozionali come sempre come la tradizione appunto dei weekend gastronomici traguardo molto importante soprattutto in questo momento di pandemia che ha messo in crisi tutte le aziende vuole dimostrare che la commercio anche nei momenti più difficili è sempre in aiuto cerca di miglior modo per poter uscire da queste crisi che colpiscono le imprese e soprattutto tutti gli operatori turistici credo che la nostra salvezza sia questo sia di poter riaprire e lavorare quanto si comincia a lavorare comincia anche a girare l'economia e pian piano secondo me si ritorna anche alla normalità questo 38esimo weekend gastronomico della primavera è nato soprattutto all'insegna di regalare uno spirito di fiducia ai ristoranti perché sapevamo benissimo che dal 10 aprile in poi nessuno poteva garantire niente in questo momento addirittura si pensa all'apertura a maggio quindi voglio dire è solo dare un segnale di speranza e l'unica cosa che possiamo fare adesso per Pasqua che si stima che i consumi sono 7 miliardi che Pasqua muovevano che sono annullati che l'unica cosa che possiamo fare è l'asporto e ripeto l'asporto per noi è un niente una briciola voglio dire poi per chi riesce a farlo perché soprattutto se io penso ai piccoli borghi che sono citati lì qualcuno non potrà fare assolutamente niente l'unica cosa che ci rimane è sperare che tutto questo passa passa molto velocemente e che qualcuno veramente in questo momento pensi a noi e ci aiuti anche economicamente a superare il momento le limitazioni e le restrizioni in vigore impongono ancora uno stop per la musica e gli spettacoli dal vivo dalla prossima settimana però potrete seguire su Rossini TV Spazio Webbo Live un nuovo appuntamento dedicato alla musica con dei concerti registrati proprio all'interno dei nuovi studios di Spazio Webbo alla conduzione ci saranno Michele Panzieri e Vittorio On The Day alias Topazio Perlini che nella prossima intervista ci racconta qualche dettaglio di questa nuova produzione ricordandoci anche gli orari e l'appuntamento con Spazio Webbo Live proprio su Rossini TV Spazio Webbo Live è un programma che abbiamo registrato nelle settimane di marzo ed aprile questa caratteristica che come tutti i locali che in questo periodo non possono fare attività di musica dal vivo col pubblico abbiamo pensato di registrare concerti in streaming musicisti soprattutto al 99% pesaresi anche per esigenze di mobilità però abbiamo pensato di aggiungere al concerto dal vivo il fatto che il concerto quando va in onda viene trasmesso dagli studi di Spazio Webbo con ospiti anche ai musicisti che hanno suonato insieme a Meto, Pazio Perlini e Michele Panzieri in questo modo il concerto in streaming diventa un po' più vivo e non questa cosa un po' ferma e fuori dal tempo a cui ci stiamo abituando in questi mesi è una rassegna di diversi concerti, ci sono stati registrati e continueranno anche nel mese di aprile tanti gruppi appunto pesaresi e musicisti, musica improvvisata, poesia, concerti di cantautori concerti anche di gruppi nuovi come i turisti e i garbino insomma un po' tanti passaggi, tanti percorsi per esplorare un po' quello che sta succedendo in questo periodo in cui apparentemente sembra non succedere nulla invece in realtà stanno ancora succedendo tante cose un po' come le formiche che scavano sotto Ecco, Spazio Webbo Live Streaming, siamo andati giù dentro i formicai della nostra città a vedere che cosa c'è vi aspettiamo quindi sullo Sini TV dal 6 aprile, martedì e giovedì dalle 22.15 e poi in replica la maratona delle due puntate settimanali assieme il sabato sera dalle 21.00 In chiusura un flash di sport parlando di basket con la Carpegna Prosciutto Pesaro perché durante la conferenza che Coach Repe già ha tenuto questo pomeriggio per presentare il match che sabato alle 17.30 vedrà i Biancorossi sfidare alla Vitri Frigorena la De Longhi Treviso è stato reso noto che Justin Robinson è risultato positivo al tampone effettuato ieri durante i controlli dell'intero gruppo squadra Il giocatore è asintomatico e invece in merito alla sfida di domani Coach Repe già ha sottolineato la necessità per i Biancorossi di recuperare le ultime sconfitte registrate cancellando il calo generale della squadra registrato da dopo la finale di Coppa Italia E questa notizia sportiva chiude quindi il nostro telegiornale vi ricordo gli appuntamenti che potrete seguire a partire da questa sera su Rossini TV alle 21.15 un nuovo appuntamento con la TV dei viaggi in prima serata su Rossini TV L'informazione torna invece puntuale domani in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che sarà condotta da Marco Cadeddu E poi ancora le celebrazioni pasquali che potrete seguire anche questo fine settimana in diretta su Rossini TV Sabato 3 aprile alle ore 19 la veglia pasquale e invece domenica 4 aprile la mattinata di Pasqua alle 11.30 potrete seguire appunto in diretta su Rossini TV la messa pasquale Domenica torna invece puntuale alle 20.30 un nuovo appuntamento con Wine & Luxury nella puntata gli ospiti saranno Jacopo Biondi Santi produttore Viti Vinicolo Daniele Patti che è il titolare del ristorante Lo Scudiero di Pesaro il docente e ricercatore Leonardo Seghetti e infine la titolare del Relais Villa Giulia di Fano Anna Passi appuntamento quindi con Wine & Luxury domenica alle 20.30 E per quanto riguarda l'informazione quindi oltre l'edizione di domani mattina che sarà in diretta per la nostra rassegna stampa la lettura dei quotidiani locali e il nostro telegiornale Rossini News tornano la prossima settimana di martedì grazie quindi per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e un augurio di buone festività di Pasqua da parte di tutta la nostra redazione Grazie a tutti